L'incontro dei giovani dei circoli dell'Utri in corso a Montecatini, il malore sembra non essere grave, gli organizzatori hanno precisato che è stato dovuto alla tensione della notte per la preparazione di questo intervento che doveva chiudere l'incontro. Berlusconi che stiamo vedendo proprio nel momento in cui si è sentito male era stato accolto con un grande applauso dalla platea, accanto a lui il sindaco di Catania, Scafagnini, che è anche il suo medico personale che l'ha subito soccorso. Le agenzie hanno anche battuto l'arrivo di un'autoambulanza con una bombola di ossigeno per soccorrerlo e con uno staff di medici per verificare le sue condizioni. Però appunto ricordiamo che l'ufficio stampa di Forza Italia ha precisato che il presidente Berlusconi starebbe già meglio, anche se ovviamente non riprenderà il suo intervento all'incontro. Torneremo ovviamente su questa notizia nei prossimi appuntamenti con il notiziario di Rai News 24. Appuntamento alle 14.